salve a tutti e ben ritornati sul mio canale in questo video voglio presentarvi una poltrona da esterno che si chiama poltrona canapone costa una cifra veramente abbordabile e se avete un giardino bello come questo magari avete anche la piscina fa la sua bella figura è facilissima da montare adesso dopo la sigla la monteremo insieme a tra poco eccoci qua la poltrona canapone prima ho detto che costa una cifra molto abbordabile la cifra è all'incirca 40 euro ma se trovate l'offerta la pagate anche una decina di euro in meno ve la danno così senza scatola in cartone ma solamente con questo involucro di plastica all'interno c'è un foglietto ma non è che sia chissà che cosa perché per montarla è facilissimo vi do le misure di questa poltrona le misure sono 64 per 72 per 98 adesso l'andiamo a tirare fuori dalla sua plastica questo è in acciaio la base e non c'è bisogno neanche di montarla perché come vedete è già pronta all'uso adesso la provo e devo dire che è comoda non è a livello delle poltrone che hanno i braccioli rialzati però per il prezzo che costa è veramente un articolo che mi sento di consigliare sembra anche abbastanza robusta come poltrona io vi ringrazio per aver seguito questo video vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto ad iscrivervi al canale ad attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno grazie a tutti per avermi seguito ancora una volta e ai prossimi video grazie a tutti